La salita che il professore de Sassuira ha effettuato al Monte Bianco nel 1787 è sicuramente un momento storico. Si trattava di uno degli uomini più illustri d'Europa nella sua epoca e la scarata del Monte Bianco non fa altro che aumentare la sua fama. Però, attenzione, non è solo la sua fama che aumenta, ma aumenterà anche la fama del Monte Bianco. Quando rienta Ginevra viene accolto da festeggiamenti ufficiali e si affretta immediatamente a dare alla stampa la sua Relation à Bregret, che è una relazione della salita del Monte Bianco che lui fa velocemente, ma in maniera compiuta, e che già ai primi di settembre è disponibile per la vendita, quindi velocemente. Questa velocità sicuramente è determinata anche dalla preoccupazione che il buon Burry possa giocargli qualche brutto tiro, visto gli atteggiamenti che lo stesso aveva tenuto nelle altre ascensioni. L'anno successivo, quindi siamo nel 1788, il professore viene nominato come membro permanente effettivo della Royal Society di Londra, sicuramente una delle società dell'epoca più prestigiose al mondo, e lui viene considerato, è lì dentro perché viene considerato alla stegua di Joseph Bank, che è colui il quale ha fatto la circunnavigazione del mondo con il capitano James Cook nel 1700, dal 1768 al 1771. Questo è che quindi era diventato con quella uno dei più famosi personaggi al mondo, ma questa semilitudine che fanno la Royal Society è importante, la dice lunga di quanto era considerato il professore, ma si occupano della vicenda anche i poeti, poi nella prossima puntata parleremo di una cosa particolare da questo punto di vista, i poeti di Ginevra che ne cantano le lodi, producono dei sermoni, addirittura uno sul suo cannocchiale viene prodotta, un sermone di quel tipo, sul telescopio e lo definisce, vado a leggere, questo tubo che avvicina gli oggetti allontanati dalla distanza, questo per dire quale tipologia di lodi c'erano attorno alla figura, ma non solo, tutti questi elementi che vengono prodotti arrivano al grande pubblico, ecco la grande differenza, arrivano anche al grande pubblico, quindi la gente comincia a chiedersi qualcosa di diverso riferito alle montagne, ma se un altolocato, uno scienziato così importante, un benestante, oltretutto un aristocratico, spende così tanta energia, così tanti tempo, così tanti mezzi per andare sulla cima di questa montagna, allora la montagna diventa qualcosa di diverso, anzitutto la gente comincia a conoscere il Monte Bianco che neanche sapeva che esisteva, prima cosa, e poi ha un vissuto, quelle montagne non sono più lo sfondo dei dipinti, diventano qualcosa di reale, qualcosa di importante, qualcosa che c'è, una dimensione nuova, e questo è un elemento estremamente importante, è questo il valore vero dell'ascensione di De Sassure, quello che trasforma sostanzialmente la montagna in qualcos'altro per il modo di sentire della gente, non solo di quattro persone. Di tutta questa vicenda quello che, diciamo, il primo danneggiato di questa vicenda è sicuramente la prima ascensione effettiva fatta da Pacquare e Balmat. Questa ascensione viene derubricata perché ormai nell'immaginario collettivo, per tutto quello che si dice, è il professore De Sassure che ha conquistato il Monte Bianco, non può essere altro, non può essere nessun altro che sia andato a conquistare il Monte Bianco. Tra l'altro il professore De Sassure riceve anche a livello internazionale tutta una serie di lettere di congratulazioni, lettere di sostegno, in particolare dalla duchessa di Borbone, sorella di Filippo d'Orlean, da Luca di Rochefoldenville e da Marsiglio Landriani. Marsiglio Landriani è un noto naturalista italiano in quel momento famosissimo che ha tra l'altro una importante lunga corrispondenza con lo stesso Benedetto De Sassure. Per assurdo dicevamo la prima vittima è la prima ascensione del Monte Bianco e l'unico che tiene acceso il lumicino su quella prima salita, guarda caso chi è? È Bourri. Bourri ovviamente è il grande sconfitto di questa situazione perché tutti questi riflettori puntati su De Sassure e sulla sua salita al Monte Bianco non hanno fatto altro che mettere in grande difficoltà a Bourri, lo storico delle Alpi, di cui nessuno ormai parla più, si sente più niente. Per lui inizia un declino, un declino importante che è determinato anche da un dato di fatto, che lui pur stando due stagioni a Sciamolino riesce a salire in Monte Bianco e invece qualcun altro lo fa, lo fa anche velocemente lo fa. Quindi su questo comincia a emergere anche una sua oggettiva limitazione rispetto alla montagna, per cui fatica a sostenere questo suo ruolo. Beh non gli viene in mente niente di meglio che scrivere una relazione racconto della salita di De Sassure nella quale dice che solo grazie al suo buon cuore ha detto a De Sassure no sali prima tu quando scendi io salgo. Cerca in qualche modo di impossessarsi un po' di quella vicenda. In verità questa cosa non funziona, non funzionerà più. Bourri sarà comunque destinato a un lento declino in relazione ovviamente alla dimensione così importante di Horace Benedicte de Sassure. Il Monte Bianco è dunque deposto, per meglio dire è sdoganato, cioè il Monte Bianco non è più un problema, non è più un limite, non è più un qualcosa di ignoto. Il Monte Bianco è una montagna strutturata, si sa bene cos'è, l'abbiamo misurata bene, è stata salita. Finita la storia? No, non è finita la storia. Non è finita la storia neanche qui, anzi per assurdo la storia, ovvero il giallo inizia da questa vicenda, questa vicenda raccontata in questo modo, una vicenda che negli anni futuri, dopo questa salita, dopo il 1787, si svilupperà ancora e di cui parleremo nelle prossime puntate per arrivare sino al 1832, nel quale accadrà l'elemento che produrrà da quel momento in poi una lettura schematica della salita del Monte Bianco che creerà la famosa leggenda di Jacques Balmain Le Mont Blanche, ma di questo naturalmente parleremo nelle prossime puntate.